Lavori? Sei come si dice tecnicamente occupato? Devi sapere allora che in Italia quasi sicuramente hai più di 40 anni. Con la tempestività di una conferma, brutta conferma, al tema dei giovani che in Italia hanno o trovano lavoro meno della media continentale, l'Eurostat stabilisce che nel nostro paese solo un terzo degli occupati ha meno dell'età di mezzo. Si tratta di quasi 8 milioni di persone, 3 milioni in meno di 10 anni fa. Se poi qualcuno avesse dubbi sul fatto che questo sia un paese per vecchi dove l'età media del pensionamento ha avuto effetti resi evidenti dai fatti, Eurostat aggiunge che nello stesso decennio gli over 60 che lavorano sono raddoppiati da circa un milione a oltre due. Vecchio dilemma quello qualitativo sulla ripresa e soprattutto sui dati che riguardano l'occupazione. Da giorni si gira e si rigira su quegli 800 mila posti in più generati dal Jobs Act, cifra bollinata dalla Banca d'Italia in queste ore molto intense. Solo che poi la postilla spiega, qualitativamente, che l'Italia ha lavorato per oltre un miliardo di ore in meno, un miliardo, e spesso lo ha fatto a termine e con salari più bassi. Nel frattempo Fitch conferma la sua tripla B, identificandoci un gradino sotto il Messico e al pari della Namibia. Un po' come Moody's che giorni fa, quanto a voti di affidabilità finanziaria, ci equiparava a Colombia e Bulgaria. Sì, questo è. Il nostro paese, dice l'agenzia di rating, insiste nel suo debito pubblico. Dice anzi, l'Italia resterà uno dei paesi più indebitati dell'universo che valutiamo. Universo, termine testuale. Per Fitch, altro punto di debolezza, le banche e l'incertezza politica. E che dire di ora che le due cose si stanno pericolosamente mischiando.